qui siamo nella vigna dell'alberello che è un particolare crew dell'azienda grattamacco siamo nella piana della bolgherese questa vigna si trova circa 50 metri dal livello del mare la direzione è di 10 chilometri dal mare e quindi la vicinanza e ci permette di ricevere ogni giorno come vedete adesso la brezza marina che tiene molto asciutta la chioma delle piante e ci consente anche qui pur essendo più bassi che dalle vigne di grattamacco di coltivare le viti con il metodo dell'agricoltura biologica l'alberello è un vigneto di circa due ettari che giace praticamente su questo tipo di terreno che è un terreno franco argilloso piuttosto povero ma nello stesso tempo è un terreno molto minerale dallo stesso colore si denota la particolare presenza di minerale nel terreno di sostanze micronutritive la scelta di piantare una vigna come quella dell'alberello è stata dettata essenzialmente da cercare un modo più efficiente per avere un vino di qualità che possa essere l'eccellenza di una produzione questo perché perché questa forma di allevamento oltre ad essere molto resistente a periodi di siccità e molto adatta a terreni poveri come questo permette di avere una bassa produzione pur avendo la pianta un perfetto bilancio tra la parte vegetativa e la parte produttiva senza quindi dover andare a intervenire con vendemmie verdi per abbassare la produzione contemporaneamente però la cosa importante che abbiamo fatto durante l'impianto di questo vigneto è pensare anche ad aiutare questa forma di allevamento per esprimere nel miglior modo possibile questa sua peculiarità come abbiamo fatto abbiamo pensato di piantare queste viti in un modo del tutto particolare ma molto tradizionale qui in toscana soprattutto per altri tipi di piante che è il settonce settonce vuole dire sette punti sette punti che sono equidistanti l'uno dall'altro infatti noi qualsiasi vite prendiamo in questo vigneto essa è equidistante da tutte le piante che lo circondano quindi va a formare se noi uniamo le piante che lo circondano un esagono con sei punti più essa stessa che il centro e creiamo i sette punti del settonce questo cosa permette permette alla pianta innanzitutto di avere una porzione di suolo completamente uguale a quella della sua vicina ma soprattutto in una forma di allevamento differente come quella dell'alberello di avere dalla mattina alla sera insieme a tutto il resto delle sue compagne nel vigneto la stessa quantità di luce e in questa maniera può regolare in maniera equilibrata la fotosintesi e quindi la maturazione dell'uva nel piantare il settonce di l'alberello quindi abbiamo pensato anche l'orientamento dei filari e alle varietà da piantare per fare un vino del tutto particolare che potesse esprimere in maniera differente la potenzialità di questo cru e anche allo stesso tempo il fatto che esso sia coltivato a livello biologico noi in questo vigneto abbiamo tre varietà cabernet sauvignon cabernet franc e petit verdot e la cosa completamente diversa sui generis di questo vigneto è che al momento della vendemmia cosa che sta avvenendo oggi le uve vengono raccolte contemporaneamente tutte insieme è risaputo che queste tre varietà hanno delle epoche di maturazione diverse si può vedere per esempio come il petit verdot sia maturo ma in uno stato leggermente più indietro a un cabernet franco o un cabernet sauvignon che è più avanti con la maturazione questo tipo di vendemmia ci permette di tirar fuori da queste uve un vino del tutto particolare con degli aromi delle caratteristiche organolettiche uniche infatti se è vero che le maturazioni sono diverse è anche vero che a livello aromatico e a livello di equilibrio acido e zuccherino le uve si trovano al momento della vendemmia in uno stato completamente diverso e quindi aromi molto più intensi che possiamo trovare in questo momento nel cabernet sauvignon o cabernet franc vanno ad essere bilanciati nella loro gradazione zuccherina da un'acidità e un tannino ancora robusto e forte che possiamo trovare nel petit verdot e questo bilanciamento soprattutto poi durante la fermentazione dei tinelli con le follature manuali e con la fermentazione spontanea e durante l'affinamento dei 18 mesi in baricche ci permette alla fine di ottenere un vino dalle caratteristiche del tutto uniche la massima espressione dell'alberello quindi oltre ad essere dovuta al fatto di venire da una coltivazione biologica e da un sesto di impianto appunto ad alberello è dovuta al fatto che è nel momento della vendemmia che viene deciso il blend delle tre varietà e quindi concretamente è un vino che viene realizzato in vigna